Ok, ciao a tutti quanti, oggi voglio fare un po' di combat jump e con, prendete il vostro trampolino, mi raccomando, prendete un trampolino di Cold Sport perché sono quelli che sono tarati per il mio ritorno elastico perché ogni trampolino ha un ritorno elastico diverso, ok? Ci sono quelli che sono super rigidi, non vanno bene per le vostre articolazioni e poi ci sono quelli troppo morbidi e anche quelli ti fanno pronare e anche quelli non vanno bene per le vostre articolazioni Allora, i miei sono proprio studiati a centimetro, anzi a millimetro per darvi il giusto ritorno elastico senza dare fastidio sulla pronazione della ginocchia, ok? Oggi andiamo a pensare di fare il nostro combat ma per fare combat è molto importante che imparate come, diciamo, ferare i pugni Ok, gomiti, spunk! Sposta di là! Scusate, spunk stava là Quattro, tre, ok, occhio! Portiamo in guardia destra, ok? Porta avanti, i gomiti sono stretti contro la cassa toracica E cominciate per andare a tornare indietro, ok? Vado, due, tre, continui, ok! Notate che non sto mai allungando completamente il braccio Poi cross, ok? Non schiacciare con le mani Porto e torno indietro Ok, di nuovo Jab, due, tre, and cross E provate a colpire lo stesso posto Quattro, jab, due, tre, and cross E siccome ci stiamo riscaldando, facciamolo piccolo Due jab, due cross Ancora due jab Due jab e due cross Andiamo sui singoli And jab and cross Jab, cross, jab, cross Ok Porta giù Cambi guardia Porta la sinistra in avanti Vai, vai, vai Piccolo jab Jab Due, tre, quattro, continui Cinque, sei, cross Otto, otto, sette, sei, cinque Quattro, tre, due, quattro Four, three, two, and quattro Four, three, two, due Jab, due And cross Ancora due Yeah Ancora due Piccolo piccolo Perché stiamo riscaldandoci Un bel allenamento di combat jab Single leg Vado Vado Poi per tutti i miei amici su Facebook Ok Che mi state guardando in questo momento Ok Se si finisce la batteria Ok Dovrò Andare avanti proprio Su YouTube E Testa sinistra Continuate Troverete In queste settimane Questi elementi proprio Su YouTube Ok E per farli con me Prendete il vostro trampolino Perché faremo sempre più Super jump Su il mio Canale Ok Sempre in fase di riscaldamento Four Three Two Giri indietro Ok Riscaldiamoci Sempre bene Le gambe e le spalle Quando lavoriamo su combat Indietro Spada indietro Vai 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 Quattro Tre E porta lì su Porta lì su Yeah Yeah Ok Ottima Quattro Tre Due E torcione Ok Scriviamo Addominali tesi Vado 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 Ancora Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Ok Porta le gambe destra in avanti E tira su Yep Ancora Ancora Tira Tira Sempre riscaldando Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Ok Aspetta la musica Bravi Ok la musica cambia Noi continuiamo Spingo giù Riscaldiamoci bene le anche E poi cominciamo a fare il combat Facciamo Tre Due Calcio basso Calcio Tre Due Calcio basso Ancora Tre Due Calcio E facciamo Due Uno E cambio Ok Via Vai Noi le chiamiamo un combat jump carico Così Carico 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 Dammi un altro Otto Otto Sette Dobbiamo veramente riscaldarci bene Prima di continuare a fare tutto la lezione Tre Due Uno Calcio basso Tre Due Uno Calcio basso Continui Tre Due Uno Calcio Due Ok 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 Finta corda Dai dai Continuiamo Saltiamo la corda Ok Occhio Facciamo Cross Jab Cross Jab E salto Ancora Cross Jab Cross Jab E stile in giù Ok Siamo pronti Occhio Nella cede Cross Jab Rimango Ok Cross Jab Rimango Ancora Cross Jab Cross Jab Adesso si gira Cross Jab Cross Jab Giro Abdominali Cross Cross Giro Montante Vai 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 Ahah Cross Jab Gira Montante Five Six Ok Corda Vai Vai Corda Come va ragazzi? Ci siamo? Oh yeah Continuo Usa le gambe Usa le braccia Fai finta che stai facendo la corda Vai 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 Tira 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 Ultima Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Occhio Andiamo Uno Due Bam Bam Ancora Uno Due E due pugni Uno Due Cross Cross Uno Due Ok Utile obliquo Uno Due Bam Bam Ancora Uno Due Bam Adesso lo farei velocemente Cross Quattro Four Three Two One Uno Exchange Sides Lento Allora Su Su Lento Due Ancora Uno Due Lento Ultima Four Times Quattro Volte Boom And Carico Carico Cambio lato Allora Sono cambi di ritmo Due Bam Vai Lento Due Bam Ancora Up Quattro Veloce Boom 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 Up E cambio lato Ancora Uno Due Lento Lento Ancora Uno Due Lento Lento E Uno Due Quattro Tre Due Uno Uno E torna centro Boom Ok Ritorniamo Usa le gambe Porta su Skip Usa le mani Sfingo giù Dai Tira su Sempre in movimento con il trampolino Sempre in movimento Non ci sono mai Minuti morti E così Ci da Questo allenamento continuativo Molto Molto Efficace Ma di basso impatto su Nostra articolazione Così ci permette di allunare Alle grande Ma proteggendo la nostra articolazione Ok Tutto da capo Cross jab E Cross jab Giro Montante Go 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 Cross jab Ok Torna sempre indietro I gomiti rimangono sempre Molto vicino alla cassa toracica Cross jab E torno Torno Monta Cross jab Gira Montante Vai Vai Carica due Prima Cross due Lento Bam Cross Cross Lento Ora Guarda Quattro veloci cross Così giochiamo anche un po' di Diretti ritmi Diretti ritmi Quattro veloci Four Three Two One Due Cambio tanto Corna Go Go Due Due Up Up Due Due Corna Up Up Quattro Bam 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 Quattro Torno in centro Ok Corna Come va ragazzi abbiamo fatto adesso Due Diversi Proprio seguenti insieme Andremo sempre a costruire E quando costruiamo Ok Poi li mettiamo tutti insieme Ma la cosa importante è di stare sempre sempre in movimento Usa le braccia Usa le braccia Eight Seven Six Five Ok Occhio Braccio destra Pazza di fronte Andiamo Four Three Two One Gomitata Gomitata Four Singolo Singolo Doppio Doppio Singolo Singolo Doppio Quattro Quattro Tre Due Gomitata Bam Ancora Bam Ancora Singolo Singolo Doppio Doppio Singolo Singolo Doppio Ritmo Quattro Tre Due Uno Singolo Singolo Rimango Singolo Singolo Di qua Vai Four Three Two One Singolo Singolo Doppio Continuo così Four Three Two One Gomitata Gomitata Singolo Singolo Doppio Singolo Singolo Doppio Ci siamo Dai La cosa bella In mezzo di qualcuno Di fronte di te Che magari ti è stressato Un capo Un Una situazione Un dispiacere Ok Ma quando sei Sul trampolino Metti tutta la tua rabbia Dispiacere Disappunto Nella braccia Nelle gambe Scaricati Ok Un atti stress Per eccedenza Vai Vai Ok Tutto da capo Ci siamo Five Six Cross Jab Cross Jab Giro E monta E monta And cross Jab Giro Monta Oh yeah Oh yeah Cross jab Cross jab Monta Come on Come on One more Cross jab Giro Come on It's four Three Two One Vai Due Uno And Lento Due Uno Quattro Adesso veloci Cross 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 Due Cambia lato Carica due Due Cross due Lento Bam Bam Carica Carica Bam Quattro Quattro veloci Four Three Two One Carico E cambio Ancora Come on Due Cross One Two Ancora Up Up One Two Diventano Quattro Veloce Four Three Two One Up Up Cambia Ancora 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 Due Due Lento Lento Due Due Lento Lento Due Quattro veloci Quattro Due Come on Dammela ancora Ancora Due 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 Lento 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 Ancora Ah Yeah Lento Lento Su Quattro Veloce Due Due Cambio lato Cambio lato Four Six Seven And Due 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 Lento Lento Due Due Cross Lente Pa Ora arrivano Quattro Veloci E quattro And Vai Torni in centro Four Quattro Four Three Gomitata Due Due Singolo Singolo Doppio Singolo Singolo Doppio Quattro Tre Due Gomitata Bam Bam Come on Touch Cora Four Three Two One Gomitata Gomitata Singolo Singolo Doppio Singolo Singolo Doppio Quattro Gomitata Bam Bam Singolo Singolo Doppio Occhio Braccia Fuori 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 Ok Non più larga Delle spalle Ok Guarda me Direttamente Di fronte a te E usa Diciamo La coda Dell'occhio Devi tenere Sempre la mano Sotto Guardo Vai Vai Apre le braccia Tonifica Quelle spalle Tai Chi Tai Chi Eight Seven Six Five Four Three Andiamo Ingancio Gancio 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 Ancora Quattro Tre Dammi la veloce Vai Dammi la veloce Altezza Aprezzo Aprezzo Bam 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 Altra Due Otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Dammi Altra Come on Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Montante Bam Chiudi le spalle Palma verso Soffitto Soffitto Mezzo Busto Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Doppio Tempo Go 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 Usa la cama Usa la braccia Usa la braccia Usa la braccia Cora Ottima Otto Sette Sei Cinque Tutto dal capo Siamo pronti? Four Six Cross Cross Giro Monta And Hey Cross Cross Giro Mortante Go 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 Cross Cross Monta Cover Cross Cross Giro Ci siamo Pa Pa Carica due Carica due Ok due cross Lento Lento E torno indietro Torno indietro Vado torno Vado torno Quattro Quattro qua Bam 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 Due carichi Cambio Ancora Due Uno Lento cross Due Due Lento due Bam Bam Allora Veloce Quattro Cross Due Cambia Bam Ancora Due Due Lento Cora Due Due Lento Ecco Due Due Quattro Pa 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 Due Cambio Vai Lento Cora Vai Vai Lento Lento Che vai Pa Four Quattro Pa 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 Due Centro Quattro Di qua Quattro Gomitate Bam Bam Singulo Singulo Rimango Quattro Pa 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 Push Singulo 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 Rimango Pa Ancora Gomitata Gomitata Singulo Singulo Doppio Singulo Singulo Doppio Ancora Quattro Tre Due Uno Gomitata Gomitata Singulo Singulo Braccia Fuori Che è sinistra Per prima Vai Vai Altro Due Otto Eight Seven Six Five Poi andiamo su I ganci Ora Ganci Altezza Petto Ancora Otto Ancora Cora Cora Yo Sotto Sotto Salta Salta Come on Pa 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 Usali 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 Vai 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 Quattro Tre Due Doppio tempo Pa Usa le gambe Usa le gambe Usa le gambe Come on Vai Vai Eight Seven Six Five Four Three Two Ok Portala su Portala su Dai dai ragazzi Portala su Ok Quando andiamo A fare un knee up Quello che chiamo carico Il piede di sostegno Non salta mai Non c'è Non sto saltando indietro Sto spingendo Occhio su queste piede Ok Non sto saltando Ok Molto importante per proteggere le caviglie e le ginocchia Ok Così Quando faccio un singolo appoggio Sempre in contatto con il tappeto Tre Due Calcio basso Hey Tre Due Calcio basso Hey Tre Due Calcio basso Hey Uno Due E salto Salto Tre Due Calcio basso Hey Guarda i miei piedi Non si muove Non si muove Va Cora uno Due Tre Calcio Carica due Cambio Cambio Ancora Tre Due Uno Calcio Tre Due Uno Calcio Tre Due Uno Calcio Due Uno Cambio Ancora Tre Due Uno Calcio Tre Due Uno Hey Tre Due Uno Hey Uno Due Ok, cambio, cambio, salta, salta, usa le gambe, oh, quanto mi piace combattere anche a me, combattere bellissimo, perché discarica, discarica la grande, dammi doppio slalom, doppio, doppio, uso sempre le braccia, state girando quella corda invisibile, come pugili, come pugili, ok, are you ready? Tutto da capo, tutto da capo, cross jab, cross jab, gira, montante, vado, 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 cross jab, cross jab, giro, montante, andiamo, pa, 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 cross jab, ancora, cross jab, giro, montante, pa, 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 cross jab, giro, yeah, 4, 3, 2, and, carico 2, cross, pa, bam, and, carico 2, cross, 2, questa volta dovete 4 cross, vai, 4, 3, 2, 1, carico, cambio, pa, ancora, 2, 2, lento, lento, 2, lento ancora, 2, 2, 4, veloce, vai, pa, 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 su, centro, ok, 2, ancora, 2, 2, su, su, 4, pa, 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 2, e dall'altra parte, ancora, lento, lento, 2, 2, lento, lento, 2, 2, lento, 4, veloci, vai, 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 turn in centro, 4, gomitata, pam, pam, singolo, singolo, rimango, singolo, singolo, rimango, 4, 3, 2, 1, gomitata, gomitata, 5, hmm, 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 oh, oh, ancora, 4, gomitata, pa, singolo, 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 doppio, singolo, singolo, doppio, 4, vado, vado, singolo, singolo, doppio, ok, tai chi, destra, destra, vai, vai, 4, 3, 2, keep it going, 8, 7, 6, 5, 4, 3, andiamo ganci, gancio, gancio, gancio gancio come on, come on vai, 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 vai ancora 2,8 la senterai tantissimo sulla schiena domani in senso positivo montante ancora 2,8 vai, 2,8 poi andremo in velocità velocità go, ausa le gambe uso le braccia vai in velocità uso le gambe, uso le braccia 8, 7 6, 5, are you ready? 4, 3 carica 3, calcio 3, 2, 1 hey, and 3 2, 1 hey, and 3 ancora calcio 2, hey, carica cambio lato 4, 6, 7, and carico per 3 calcio hey, and 1 2 calcio ancora attento ai piedi non saltare indietro 2 carichi cambio cambio calcio calcio hey, 1 2 calcio hey, 1 2 calcio hey, 2 cambio lato cambia lato ci siamo quasi ragazzi 1 2 calcio yeah, and 1 2 calcio hey, 1 2 cambio ottima volta andiamo 1 2 calcio hey, e 1 2 calcio hey, e 1 2 calcio hey, e 1 2 and stop ok bravi ragazzi abbiamo fatto questo combat jump insieme oggi e ricordate che ogni settimana troverete sempre all'anime di più lunghi di super jump così potete avere il vostro personal trainer e di Cooper dovete tenere a casa vostra per tenervi sempre in forma vi mando un bacio un abbraccio una grande diciamo diciamo abbraccio virtuale e iscrivetevi al mio canale e vi aspetto qua sempre su G Cooper super jump YouTube un'operata allenamenti di super jump woohoo